Giovedì 22 ottobre prossimo il Consiglio Comunale di Niscemi deciderà sull'adesione alla città metropolitana di Catania. Dovrebbe essere, usiamo il condizionale, il giorno decisivo. Dopo il rinvio di mercoledì scorso, chiesto dal Consigliere Giuseppe Rizzo per consentire a tutti i componenti del civico consesso di essere presenti. Nell'ultima seduta, infatti, non c'era il Consigliere Rocchi Blanco. Ai nostri microfoni il Sindaco di Niscemi, Francesco Larosa. 19 presenti in un Consiglio Comunale io non mi ricordo, se non in una elezione in questa mia legislatura che era quella del Presidente del Consiglio. Questa non me l'aspettavo sinceramente, anche perché ci toglie tempo nell'amministrazione, ci toglie tempo nel decidere nei lavori di effettuare. Io dico che c'è un'esigenza oggi, stabilire in fretta, andare a votare in fretta, in modo sereno, lontano da ogni tentazione che può arrivare dall'esterno e in libertà di coscienza. Lei è per il sì a Catania? Io sono stato colui che ha indetto il referendum l'anno scorso. L'ho portato in piazza, ho comiziato nei vari quartieri. Oggi si parla di un'altra cosa, oggi si parla di area metropolitana, non si parla di libero consorzio. Che sarebbe stato bello? Niscemi, Piazza Ermerina, Caltagirone, Licata, Gela, San Cono, San Michele, Gran Michele. Che sarebbe stato bello? Qualcuno ha vietato questo, non ha voluto. Le faccio però la domanda ancora una volta più diretta. A lei, come sindaco di Niscemi, piacerebbe che Niscemi facesse parte della città metropolitana di Catania? Se io avessi diritto il voto, sceglierei con libera coscienza, spiegando le motivazioni e cercando di far capire che cosa mi ha indotto a scegliere l'una o l'altra parte. In modo fazioso sicuramente no. Chi è di parte e chi vuole trasformare questa elezione, questa deliberazione, in una questione politica, sbaglia. La città ha bisogno di serenità, ha bisogno di essere rappresentata, non ha bisogno di forzature o di pressioni esterne. Io sono convinto che questo Consiglio Comunale sceglierà la migliore ipotesi, perché di questo si parla, per la propria città, per i propri figli, perché anche il Consiglio Comunale di Niscemi ha figli e interessi in questo territorio. Chi ha creato questo danno è la Regione Sicilia. Tanto è vero che c'è una parte della legge impugnata. Quando invece bastava approvare il libero consorzio di Catania e non c'era bisogno di tornare in aula. Io dico sempre la stessa cosa. Chiederò i danni d'immagine della mia città e i danni della spesa che ho fatto per il referendum. Mi auguro però che si voti in libera coscienza.